I nove colpi di mitragliatrice M5 sparati da nave Aliseo durante l'operazione nei confronti di un barcone con scappisti a bordo nel canale di Sicilia il 9 novembre scorso sollevano dubbi sull'operazione Mare Nostrum. Le perplessità sono espresse da Marco Comellini, segretario del partito per la tutela dei diritti di militari e forze di pulizia che ha diffuso questo video sulla dinamica dell'accaduto dai colpi sparati dall'Aliseo al successivo affondamento del barcone. Vogliamo sapere quali regole sono previste nell'operazione Mare Nostrum e se sono state rispettate, chiede Comellini. Le immagini sono state consegnate alla procura militare di Napoli che acquisirà per la perizia necessaria ulteriori documenti dalla procura civile di Catania che si è occupata dell'arresto degli scafisti.